L'incontro svoltosi a Sassari tra i rappresentanti della regione Giacomo Spissu e Liusano De Pau e gli esponenti della Confcommercio di Sassari e Alghero ha convinto positivamente il presidente territoriale algherese Massimo Cadeddu dichiaratosi soddisfatto dalla disponibilità manifestata dai vertici regionali a riconsiderare la normativa in vigore sulle chiusure obbligatorie degli esercizi commerciali trasferendo nei comuni le competenze.